Strada statale 17 completamente bloccata questa mattina a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un auto articolato e due vetture in zona sassa. Dai primi rilievi effettuati, anche se la dinamica è ancora da chiarire in modo definitivo, sembrerebbe che la Mercedes nera coinvolta stesse effettuando un sorpasso ma riuscito, che ha di fatto coinvolto anche la Panda, che si è ritrovata sotto l'auto articolato, che viaggiava in direzione Rieti. I conducenti delle due automobili sono stati trasportati all'ospedale San Salvatore con il 118, ma per loro solo traumi e lesioni varie, nessun problema invece per il conducente dell'automezzo. Sul posto per i rilievi del caso, la Polizia Municipale dell'Aquila e i Vigi del Fuoco.